ciao a tutti ciao benvenuti al nostro canale di manuel papà ora mostriamo dove siamo arrivati nelle uscite cosa dobbiamo fare perché c'è questo video perché stiamo costruendo un dinosauro il tirandosauro 3 il re di dinosauro il mio preferito aspetta cosa cosa fa vedere si vede allora qui abbiamo la testa si vede si vede abbastanza ok questa è la telecamera e abbiamo la zampa destra l'antiglio destro e cominciamo la pedana abbiamo completato la pedana la pedana completato si no quasi non ti sa c'è forse non manca un altro pezzo vediamo vediamo con le altre uscite si arriva altra altri pezzi per recuperare la pedana allora che uscite facciamo oggi? la prima qual'era? che uscite facciamo? la 16 la 17 la no la 16 la 17 e la 18 che c'è nella 16? qual'era? era questa? cosa troviamo nella 16? troviamo il femore no la tibia la tibia ecco qua la tibia sarà il continuo della zampa esatto e noi in diretta lo facciamo però prima spieghiamo cosa c'è ovviamente poi c'è anche il sommario il contenuto che c'è nello fuscolo artigli affilati affilati poi Plocanthus questo lo conoscevo è in Jurassic World Evolution Plocanthus molte spine molte spine è un dinosauro che ha tante spine sul... come il chilosauro circa dinosauri e videogiochi questo è per i ragazzi che amano tanti videogiochi come noi una spiegazione quali sono i giochi con il dinosauro una... una sigaretta... no una sigaretta... no una sigaretta... no una... no suona... suona un... un flauto il flauto e poi spieghiamo come si può... ok della... 10... 17... 17... numero 17 ecco... è meglio... e abbiamo sempre un'altra... l'asticina... ci si vede? l'asticina... del... per costruire sempre l'altra zampa... allora... c'è sempre... aspetta ma cos'è... aspetta... quindi abbiamo... l'artiglio... questo è il destro... l'artiglio sinistro... quindi nel numero 17 di questa uscita abbiamo l'artiglio più l'asticina... l'asticina... e sul segno... per sostenere l'artiglio... allora c'è... in equilibrio sulla coda... ok... non so qual è che il dinosauro è questo... l'ambeosaurus... questo lo conosce... l'ambeosaurus... lettile delle... lett... rettile... rettile di... lambe... 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 che... questo lo conoscevo... ok... i grandi pae... paleontologi... paleontologi... ok... come Alan Grant... in molte parti... poi... l'uscita 19... 18... ah scusate... 18... 18... c'è l'altra zappa... ci sono... tre ragazzi che erano qui... vi faccio vedere... che vanno nell'artiglio sinistro... e... ed escono... una... ogni settimana... non escono... ora... ora... solo... una volta a settimana... cosa... le uscite... le uscite... escono una volta a settimana... noi... aspettiamo... 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 tre settimane... per fare un video... perchè... perchè... facciamo altre uscite... esatto... ok... allora... allora... gli artighi... cosa dobbiamo... perchè prima... però veloce... vai spiegolo dai... no... però spiego veloce... prima... prima... era... era una settimana... ora... sono... una settimana... ok... Si... non riesco a leggere... che c'è... non riesco a leggere?... ci c'è? non riesco a leggere... aspetta eh... mi so... Mario... le zone... anteriori... anteriori... anteriori?... queste sono delle galline...'s non vanno... Heerer......rop... soure... questo... per me era sconosciuto... 꿈... è per Rética di... Herrera... Herreraera... soure... e poi... E poi? esso il mezzo... Rettile Herreferra Cretaceo Creatore Creatore di dinosauro Allora Io ho questo dinosauro qui Questo Herre Herre Herenasaurus Herenasaurus Per me io non lo conoscevo Quindi per me era sconosciuto Per leggere Lo pusco Ok Allora Cosa facciamo? Partiamo subito con i primi problemi Per me era sconosciuto quel dinosauro Comunque andiamo a parlare Quindi andiamo a costruire Questa diciamo Abbiamo la tibia E l'altro 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 Quindi tra due minuti Cambiamo in quadratura E iniziamo a montare Queste tre uscite Va bene? Ciao Ciao a tutti di nuovo Siamo di nuovo qui a iniziare il montaggio Sì Montaggio delle ossa Partiamo subito con Con la 16 La numero 16 La 16 trovate la tibia La tibia che ora faccio vedere in diretta meglio Senza la plastica Che va montata Che va montata Nell'artiglio destro Sì abbiamo aperto come potete vedere le uscite Sì Nella diciassettesima uscita abbiamo? Nella diciassettesima uscita abbiamo L'artiglio della zampa Quindi abbiamo l'artiglio della zampa E poi l'artiglio della zampa Abbiamo l'artiglio della zampa La zampa sinistra L'artiglio sinistro Sì Abbiamo le tre dita Sì Partiamo subito Con l'uscita numero 16 Mettiamo da parte Questi qui Li mettiamo insieme Nel nostro L'accoglitore L'accoglitore Aspetta L'accoglitore Che abbiamo già Diciamo fatto vedere Abbiamo comprato la quinta uscita Mi sembra Ok spostiamo tutto Ah c'è anche questo Questo Lo mettiamo qua Ok Ho le tre dita Ah Che bella tibia Che bella tibia Ora spostiamo la nostra pedana Così facciamo vedere Facciamo vedere Facciamo vedere la pedana Nostra e visuale Esatto Questa è la zampa L'artiglio destro Che è la tibia Dove andrà? Qui Giustamente Aspetta Era l'altro lato Questo Era Cerchiamo di Di spezzarlo Come quella Di Dino led Dino led Cos'è dico? Quello dell'altro video Dino led Che andava spezzato così Ah esatto Quindi va Ma le donne E' fuori E' fuori Qui Aspetta Aspetta C'è un po' di forza Dal dinosauro Questo era L'altro Scraffo Nell'altro video Tanto tempo fa E' fuori papà Non è Non è Non è Dino led E' fuori E' fuori E' fuori E' fuori Amico E' fuori Soprano Le ho E' fuori E' fuori Soprano Speriamo, questa è la tibia davanti, c'è questo foro che va a incastrarsi con il sostegno. Ora bisogna chiudere la tibia dietro. Vedete che qui c'è una forma di T. La famosa T. Sì, volevo dire anche che qui, spiego, ci sono dei forellini con le viti, esatto, verrà fissato così, ok? Prima va a fare... La famosa T. Abbiamo messo la nostra tibia. Speriamo sull'artiglio destro. Speriamo sull'artiglio sinistro, le viti. Montiamo, portiamo di nuovo la pedana e facciamo vedere l'artiglio. La sedi... Non ti ricordi l'uscita? No, me la ricordo. La 17 e la 18. Quasi identici. A 99%! Ok, abbiamo così... Abbiamo una buona percentuale. Abbiamo... Questi due... vanno incastrati per parte, ci qualche problema, intervieni? Sì. Vai, è una bella pressione. Ah, però prima di fare questo, non è... Bisogna mettere le dita. Ecco fatto. Ce l'abbiamo fatto, ragazzi. Non ce l'ho, ma non ce l'ho come il papà, perché man mano quando si cresce si diventano giustamente più forti, pesanti, più forti, più robusti. Ecco, la robustezza. Ecco, fatto. La robustezza è importante. Ah, finalmente abbiamo... E speriamo che non ci cadono, no, non ci cadono così. No. Ora... Eccoci di nuovo. Ah, finalmente siamo riusciti a costruire il nostro artiglio sinistro. Sì. Come vedete, come quello destro, abbiamo... No, abbiamo attaccato gli artigli. Ora, cerchiamo di... Aspetta, eh. C'è sempre il foro come l'altra uscita. Vai. Perfetto, è grande mamma. Ok. E va fissato sulla pedana. Ecco fatto, guarda, è bellino. Oh! Ecco fatto. Questo è anche muovibile. Senti, si muove. Ora, più là, dopo si stime... Bisogna fissare... Quella... Quella... Nell'atrocita. Allora, andiamo avanti. Poi... Dove è? Ragazzi, mi sa che abbiamo finito. Ora vediamo, spostiamo. No. Cosa c'è da... Bisogna fissarli? Dopo, nell'atrocita. Nel prossimo video, vi facciamo vedere come si fissa. Ok? E... Niente. Vedete? Qui abbiamo ora, sperando che si vede... Qui va fissato con delle viti. Nel prossimo video, facciamo vedere. Abbiamo... Sperando che si veda... Ecco fatto. L'artiglio sinistro, l'artiglio destro con la tibia. E vediamo... Sicuramente nel prossimo video ci sarà l'altra tibia. da mettere sul... sull'artiglio sinistro. E le viti per fissare questa... E le viti per fissare questo. Ci sarà anche la tibia che sarà alto già abbastanza. Ci sarà... Con la tibia sarà già alto. Tibia. Tibia. Con la tibia. Tibia. Questa si chiama tibia. No, nella prossima scelta ci sarà la... la tibia. Tibia. L'altra... Tibia? La tibia che va sull'artiglio. E sarà già abbastanza alto, come già è... arriva qua. E poi sicuramente ci sarà... sopra la tibia ci sarà il femore. Il femore che sarà altissimo. Cioè... Ok. Le quadrature saranno un po' difficili da fare. Eh sì. Sarà un po' un'impresa. Poi quando inizia ora a crescere questo primo stavolo... Già nella trentesima... Già nella trentesima uscita si pronuncia così. Nella trentesima... Già nella... Facciamo i saluti? Eh sì. Nella trentesima uscita sarà già... Ci saranno già le costole mi sa. Eh. E sarà già alto. Esattissimo. Allora... E ci sarà la pelle in montare tutto. Esatto. Un bel lavoro. Un bel lavoro. Allora... Cambiamo subito il visuale. Facciamo i saluti. E... Tra due secondi. Ciao. 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 Eccoci di nuovo. Ciao a tutti. Facciamo subito i saluti di questo video. Timo al sole. Quando si inizia a fare una punita ti temo al sole. Ecco. L'acqua? Dopo. Dopo? Va bene. Lo abbiamo portato l'acqua. Spiega... Facciamo i saluti cosa abbiamo fatto. Abbiamo portato la tibia. 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 Poi nell'altra uscita ci sarà sempre... L'altra tibia. Che mi sa che ce l'abbiamo già l'altra tibia. Nell'altra uscita quando poi... Ah no. Si. E facciamo i saluti. Dai. Facciamo i saluti. Manu è emozionato. Sì. Abbiamo, vedete, abbiamo costruito il nostro... I rex. I rex. Gli artili. Finalmente abbiamo gli artili. Questa è la pedana. Sì 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 sì. E con l'artili sul lato destro. Voi! Voi! Allora, un baciotto da... Voi! Da Manu èle e papà. Vi raccomando, condividete i video e i nostri video. Che iscrivetevi al canale. 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 Che iscrivetevi al canale.